bene trovati amici di Radio Rosso Nera buona domenica e buona Pasqua essendo oggi il trentun marzo del duemila ventiquattro Pasqua e quindi un augurio a voi e ai vostri familiari insomma tutti quelli che volete bene ma soprattutto piano col cioccolato perché scherzo a parte eh le pagelle le pagelle di Fiorentina Milan Milan che vince ancora Firenze credo la sia la sesta vittoria consecutiva o giù di lì eh del Milan e quindi le pagelle della partita di ieri sera con la vittoria a Firenze eh dai non ci perdiamo in preamboli vi andiamo subito con le pagelle eh Mike Mignan prende sette e mezzo perché perché ha fatto tre parate una più bella dell'altra eh molto bravo in uscita su su Belotti non tanto per la parata in sé ma per quanto è stato veloce ad andare contro Belotti quindi a chiudergli lo specchio nel primo tempo molto bravo su Belotti che è nel secondo sotto il sette molto bravo anche su Mandrager anche se forse la palla sarebbe uscita ma insomma lui la manona ce l'ha messa lo stesso Mike che fa strano dire in una in un primo tempo dove il Milan ha sicuramente costruito e giocato meglio eh della Fiorentina però c'è anche lui cioè ha contribuito a tenerci in partita e fa strano a dirsi in una partita dove probabilmente tu potevi fare tranquillamente tre gol al primo tempo ma non avendoli fatti merito a Mike di averci tenuto tenuto a galla sia solo zero a zero sia sul due a uno eh della del Milan con il possibile due a due di Belotti sventato quindi molto molto bene Mike ma per almeno per quanto mi riguarda una novità Mike non è un potere un portiere normale né un portiere straordinario è un super portiere straordinario e quindi questa fa notizia quando in realtà non lo è per certi versi Calabria 6 eh qua in realtà vi devo chiedere una mano perché quando stavo dando il voto ripensando un po' la partita non mi è venuto in mente gran chiede la partita di Davide cioè gli ho dato sei per un mio demerito nel senso che non mi sono ricordato di di grandi giocate di qualcosa che ha fatto probabilmente quindi non ha fatto gravi danni ma nemmeno grandi cose quindi gli ho dato sei per per sufficienza media ecco eh chiudendo gli occhi mi viene in mente solo quel bel palleggio che purtroppo si è preso sopra la testa da Nico González a fine partita poi per il resto non mi viene in mente granché scusate eh Tomori 5 e mezzo ho messo un paio di buone pezze però non gli ne faccio nemmeno una colpa nel senso che farsi attirare fuori posizione è in parte dovuto anche al modo per come difendiamo quindi eh se va va tanto fuori posizione è perché gli viene richiesto però Fic non è sembrato al cento per cento ieri è arrivato tardi anche su qualche chiusura su qualche su qualche anticipo su qualche scelta anche non non è stato non è stato perfetto però insomma capisco anche che non sia facilissimo difendere così costantemente alla ricerca di fare la scelta giusta e se non fai la scelta giusta il rischio è quella di fare il patatrack e non semplicemente di sbagliare una scelta Malik anche lui per me prende prende la piccola insufficienza cioè 5 e mezzo primo tempo un po un po così con un giallo che si poteva anche evitare visto che è arrivato tardissimo sul sull'avversario non è ancora non è ancora tornato quello pre infortunio sicuramente non non quello di inizio stagione dove invece qualche buona partita l'aveva fatto ancora non ha non non ha pienamente ingranato da dal ritorno florenzi invece dato sei più potrebbe anche dargli sei e mezzo comunque ha fatto fatto una una buona partita lui sì qualche volta in più si è visto anche dalla mente a campo in su ha fatto fatto una partita consistente non è teo insomma nessuno al mondo è teo però ha fatto praticamente una buona gara ecco qua qua mi sono trovato un po' difficoltà a dare il voto cioè Isma mi sa che gli ho dato sei perché li voglio bene ha fatto no ho esagerato adesso che me ne rendo conto c'è anche quella brutta palla persa al limite dell'area che quasi ci costa al gol subito dopo l'occasione di di velotti con megnana c'è quell'occasione dove velotti va a calciare prende prende tomori su su errore forse esagerato col sei in effetti anche lui non benissimo sei per renders partito onesta il sei è una media tra quello che ha fatto in occasione del gol subito dove si perde il taglio di duncan e dopo pochi minuti il bel filtrante che manda in porta rafael leao è un po la media tra una buona giocata una cattiva giocata per il resto non ha fatto malissimo perché ha giocato quasi più da mezza alla sinistra per certi versi ieri e non ha non ha fatto malissimo poi l'errore poteva rischiare grosso mi trovo sempre in difficoltà anche qui scusate su su ruben ruben è strano da da commentare perché ha fatto un primo tempo dove mi ha tra l'altro giocato meglio per certi versi quasi inesistente cioè non c'è quasi traccia di ruben nel primo tempo se non quel quella palla che gioca su quel secondo palo a fine a fine tempo poi il gioco in un secondo tempo invece molto più consistente molto più fisico molto più presente a gol e non è un caso perché si ritrova sempre lì al posto giusto al momento giusto perché mi rincovi ci può anche scivolare ma se ruben non ha fatto il movimento di taglio sul secondo palo opposto a quello che ha fatto leao leao che viene incontro sul primo e lui che va invece profondo sul secondo per chiudere il l'astri di tacco di leao se non c'è la palla va via e non e non facciamo gol quindi i movimenti di inserimento classici del della mezzala barra tre quarti ormai l'abbiamo visto ce li ha ce li ha di testa ce li ha di piede ce li ce li ha non è ancora un giocatore super mega presente durante l'arco dei 90 minuti e non so mai se a questo punto nel caso lo sarà perché l'abbiamo visto fare veramente forse uno o due volte in tutta la stagione questa consistenza per 90 minuti però però è talmente strapotente sia dal punto di vista fisico e quando abbina il fisico alla tecnica lo è ancora di più che tra virgolette gli basta questo per essere così tanto impattante in serie a se mai sarà un giocatore ancora più continuo è veramente un bel crack per la serie a tu qui le 8 7 anche per per rinfrancarlo non è che viene infrancato da me ovviamente però per la bella prestazione oltre che il gol di di verona ha messo in piedi dopo dopo la sosta eh ha fatto fatto veramente le delle buone giocate ma non ti importa ad esempio una volta girù eh subito inizio gara eh mettere dentro nel motore anche ciò quese per la parte finale di stagione sarebbe fondamentale perché vorrebbe dire in pratica avere tutti i ricambi pronti per cioè se puesi che quella volta lì non sta giocando bene è giocoese c'è ciò fa forr io invece forse un pochino meno in questa fase della stagione eh però almeno avere i due i due esterni al massimo anche quelli di riserva sarebbe fondamentale questa per me è la dimostrazione ancora una volta che la rosa quest'anno era di buonissimo livello anche come profondità poi una non dire sì non farà primavera però Rafa goal e assist e che le vuoi dire Rafa? è troppo più forte è troppo più forte e ogni tanto mi viene in mente non è non voglio fare paragoni eh lunghi da me in generale il mio è un paragone tra virgolette emotivo eh con con Clarence non Clarence Edorf quando gli si veniva un po' rimproverato ogni tanto di giocare partite di passaggio ma non perché ce la si aveva un po' troppo con Clarence ma che lì si talmente lì si riconosceva della qualità del valore dell'importanza della dominanza eh rispetto all'avversario che quando invece giocava un pochino così salvo lo si andava proprio a lui a pizzicare perché uno pensava ma caspita ma bastano veramente tre giocate per farci vincere la partita a Faiste tre giocate e poi piuttosto metti in ciabatte il paragone finisce qui ovviamente con con Clarence però è un po' ogni tanto il pensiero che ho anch'io su Rafa Rafa è talmente forte che gli basterebbero veramente tre giocate in una partita per decidere qualsiasi partita o giù di lì e anche a Firenze abbiamo avuto la la riprova è per la Serie A è quasi un lusso per certi versi eh Olivier è Olivier male ha sbagliato una palla sanguinosa dove poi la Fiorentina è ripartita e quasi rischiamo di prendere gol eh ha sbagliato due occasioni non non da Olivier non da Olivier sia col destro che con il sinistro due piattoni che per uno della sua tecnica non si possono sbagliare entrambi eh brutta partita ci sta i subentrati vai una sfilza di sei eh Gabbia dei tre centrali che hanno giocato mi è sembrato il più il più attento anche a costo di fare qualche fallo in più ma ogni tanto si deve fare eh Hocafor vabbè senza infamia senza lode Musa anche Pusic pure ha fatto hanno fatto tutti un buon subentro eh eh Jovic ho gli ho dato senza voto perché li voglio bene perché in realtà in quei dieci minuti abbondanti che ha giocato recupero compreso ha fatto più danni che altro l'ha vista poca ha fatto danni quindi vabbè prossima volta eh Pioli ho dato sei e mezzo che anche qui è una media tra il sette e mezzo anche anche qualcosa in più della nostra fase offensiva perché il Milan è una squadra che potenzialmente potrebbe fare veramente una cariolata di gol oltre che alle qualità degli degli diciamo così individuali dei giocatori eh che hanno fatto sicuramente loro con le loro qualità ma il Milan ha avuto anche a volte pazienza nel costruire dal basso cercando di uscire nel monumento giusto cercando di attirare la pressione della Fiorentina quindi comunque la nostra fase offensiva in generale è stata di 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 buonissimo livello e il Milan a fine primo tempo poteva aver fatto tranquillamente tre gol la media che da sei e mezzo è invece con il cinque e mezzo della nostra fase difensiva che al netto del fatto che la Fiorentina aveva tanti giocatori offensivi però al Milan ha concesso almeno tre quattro palle gol pesanti alla Fiorentina eh quelle di Belotti su tutte il gol di Duncan cioè eh ci sono un altro paio di di occasioni soprattutto nel secondo tempo tralasciando l'occasione quella dove benassessi fa rubare la palla che vabbè quella in realtà è un errore singolo però eh la nostra fase difensiva ogni tanto ancora diciamo così è figlia di qualche idea che ogni tanto ci ci lasci in uno contro uno intanto campo aperto in tanti eh duelli che ogni tanto si si rischia di perderli si rischia di prendere gol e quindi insomma è la media è veramente la media matematica tra la fase difensiva cinque e mezzo e la fase offensiva sette e mezzo e quindi la media è questa ampia è sufficienza per la vittoria 2.1 a Firenze grazie a tutti ci ritroviamo tra poco in realtà tra qualche minuto tra qualche ora in realtà con lo speciale mercato con Matteo Moretto e poi ci ritroviamo domani che anche Pasquetta con eh uno speciale poi e poi poi ci ritroveremo direttamente con la nostra programmazione martedì via via con tutti i nostri appuntamenti dall'editoriale alle sette fino a ritrovarci alla partita di eh sabato sabato contro lecce grazie a tutti ancora buona Pasqua e a presto